Questore, un 2014 vissuto come? Pericolosamente, no? No, pericolosamente. Normalmente, con l'intervento della Polizia di Stato a tutto tondo, come si dice. Anzi, questa è l'occasione per ringraziare, come si dice, gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Teramo che hanno assicurato la loro presenza e quindi dato più sicurezza al cittadino. Che anno è stato adesso, a parte gli scherzi? Beh, tranquillo da un certo punto di vista, però è chiaro che il lavoro non manca. Abbiamo cominciato con una rissa all'inizio dell'anno e abbiamo finito con una rissa alla vigilia di Natale. Quindi problemi ci sono nella provincia e noi cerchiamo di essere sempre presenti e di intervenire quando occorre. I numeri come sono? Migliori del 2013 o peggiori? Ci sono proprio dei cali anche dal punto di vista delle percentuali, cioè furti in meno, rapini in meno. Quindi un po' si sente l'attività svolta da noi, anche dalle altre forze di polizia naturalmente, ci mancherebbe. E quindi il bilancio può essere considerato positivo. Il reato che si è consumato più volte qual è stato? Il record a che va? Ai furti. I furti che però sono in calo. Abbiamo una buona percentuale di furti in meno, qualche centinaio. Quindi il numero esatto poi ve lo dirò in conferenza stampa. Comunque la nota positiva è che sono in retrocessione i furti. Lei ha detto che il 2014 è iniziato con una rissa ed è finito con una rissa. Il 2015 come è iniziato? No, no, tranquillamente. Grazie alla neve e al ghiaccio. La notte di Capodanno, vabbè, purtroppo, lo sapete meglio di me, eravate in giro pure voi. Il clima non era favorevole alla presenza in strada delle persone. Però la gente pensa che si sia divertito ugualmente nei ristoranti, in casa. Per fortuna è andato tutto in maniera tranquilla. Non ci sono stati grossi problemi, salvo quei leggeri feriti per i botti, che purtroppo è un'usanza che dovrebbe essere un po' così abolita per me.